To stop a gay ben, take control and press the gay ben E' eccezionale che tutti avevano kickstartato Intanto mangio del gelato Au Ma comunque a 4,19 euro C'è un amato il genere Potreste farci un pensiero Plug Ink a 33% in early access per un titolo comunque così semplice Non credo che valga la pena Quando invece 5 euro per Metal Gear Solid 5 e Ground Zeroes E' al momento un ottimo acquisto per un semplice fatto Perché sta per uscire le Phantom Pain Quindi se volete mettervi in pari con la storia Prendere Ground Zeroes è una buona idea Banished è un buon gioco 4,74 euro ma non è eccezionale E' un gestionale un po' inferiore a quello che potrebbe essere South Park The Stick of Truth invece è un gioco veramente esilarante Che per 10 euro potreste sinceramente considerare Dungeons 2 50% di sconto è troppo poco Eurotrack Simulator 2 se amate il genere E' sicuramente uno dei giochi più apprezzati all'interno del genere simulativo La serie di Game of Thrones di Telltale Non è la loro migliore serie a livello di avventure Non è assolutamente male però Loro scontano sempre pochi giochi E 50% è un po' pochino C'è l'intero franchise di Elder Scrolls In sconto con Skyrim e tutto Non sono sconti eccezionali Ma comunque se amate franchise fateci un pensiero Così come dovreste fare un pensiero La franchise di Company of Heroes Tutto al 75% Sono alcuni dei migliori strategici in circolazione Quindi fateci assolutamente un pensiero E' quello di Arma Che ha Arrowhead addirittura a 2,24 euro Arma 3 al 60% Insomma buoni sconti anche da questo punto di vista Ma niente di incredibile Star Drive 40% è anche lì un po' poco di sconto Off World Trading Company è un altro Early Access Quindi boh Direi di lasciar perdere E poi nelle offerte lampo abbiamo Never Alone Molto bellino a livello artistico Ma inferiore all'aspettativa a livello di gioco 60% di sconto Torchlight 2 è sempre un ottimo acquisto The Sims 3 40% è troppo poco The Secret World è un MMO Bastion ha 2,74 euro Lichdom Battle Mage Non l'ho personalmente provato Ho sentito delle buone robe Ma anche dei pareri negativi In generale comunque oggi vedo che non ci sono delle grandissime offerte Ah ecco questa è bella invece Allora tra le offerte lampo Sinceramente al di fuori di Torchlight E Bastion non vedo niente di incredibile Please Don't Touch Anything È un titolo molto strambo Di cui ho sentito parlare in modo discretamente positivo Per 2,74 euro È uno di quei metagiochi veramente strambi Di metanarrativa un po' particolari Che potreste tenere in considerazione Quindi i miei consigli sono Tra le offerte lampo Torchlight 2 Anche se lo avrete quasi già quasi sicuramente Bastion Please Don't Touch Anything E E E C'è un bundle di Stalker Però al 60% Però è un bundle notevole Perché contiene tantissimi giochi E tutto per 13 euro Quindi queste le mie offerte veloci del giorno Speedrunners è molto bello Mainerly Access E Planet Explorer uguale Quindi quelle sono le mie offerte lampo preferite Le offerte principali Metal Gear Solid Ground Zero Per il fattore che ho detto prima South Park Perché nonostante lo sconto non eccezionale È notevole Pillars of Vitality è solo al 33% di sconto L'ho trovato in siti di chi ha molto meno In realtà secondo me ancora un pochino Se fosse al 50% di sconto sarebbe Un acquisto praticamente obbligato È un grandissimo titolo Comunque molto recente È un bellissimo GDR Quindi fateci un pensiero E E tenete in considerazione Siamo attraverso il Siamatelistratici Planetary Annihilation E Company of Heroes Vabbè Di Elder Scrolls Chi non ce l'ha ormai Tra invece i saldi mostruosi Quelli legati Al giochino L'unico che qua in mezzo Mi interessa veramente tanto Anche perché la maggior parte di questi giochi In realtà Buona parte di questi giochi Non li conosco neanche È Astebreed Che è un bellissimo sparatutto Su cui avevo fatto un live Tempo fa E mi era piaciuto molto Anche Abyss Odyssey Non è malvagio Non so invece assolutamente Cosa sia questo Fight the Dragon Dicevo Non credo sia niente di particolarmente eccezionale Però è per 2 euro Potreste farci un pensiero Quindi questi sono i miei consigli Qua E niente basta Oggi sarò veloce E ci fermiamo qui Ci vediamo alla prossima Ciao